Amore a prima vista No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo Bianchi, sorrisi, dietro storie tristi Sguardi che tolgo il respiro Nella dignità del silenzio Ore trascorse giocare insieme Missione che dà speranza Anche ora che siete lontani Guardo il mio cuore e sorrido No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo E guardo ai giorni in cui io non pensavo a voi E non sapevo che Nei vostri cuori tanto amore c'è No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo No, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo No, no, no one has the right to be happy alone Nessuno ha diritto di essere felice da solo Nessuno ha diritto di essere felice da solo Un ambiente che la porterà, se io vorrà, anche lei a fare questa esperienza, aiutare i suoi fratellini piccoli che hanno bisogno. Grazie Marchese, intanto ho visto che prima c'era anche... Grazie. 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 Io ho una grandissima amica che si chiama Maria Antonia e insieme a suo marito hanno formato un gruppo di preghiera che l'hanno dedicato a San Giovanni Bosco. Voi sapete che questa è una missione salesiana, sapete che sono i salesiani, sono il fondatore dei salesiani e Don Bosco. Questo gruppo richiama parecchie persone, non solo da Diocesi Diozieri, ma da Sassari, da Orbia, un po' da Tempio, un po' da tutte le parti della Sardegna. Vengono alla sua casa dove insieme al marito hanno creato una cappella dedicata alla Madonna e la gente si ferma lì per pregare. Una volta al mese c'è una serata dedicata a Rosario e naturalmente col carisma del marito che è pronto, terapeuta, eccetera, eccetera, si guariscono, hanno questo carisma di guarire o almeno di alleviare le sofferenze altrui. Questo strumento naturalmente è anche uno strumento attraverso il quale aiutano i bambini della missione e qualche giorno fa Maria Antonia ha compiuto gli anni e noi le facciamo gli auguri. Tanti amici. I bambini della missione, così, e sono meravigliosi come avete visto. Un'altra cosa che abbiamo fatto sempre, non l'anno scorso, un paio di anni fa, questo era l'anno scorso, un brano sempre molto movimentato, a loro piace il ritmo, hanno la musica nel sangue, sono sempre sorridenti, l'avete visto, per cui con la musica ci si capisce. Questa la conosciamo tutti, quindi. Il sole, la luna, il stato, il coraggio, cariño mio, volando, volando nel cielo, dibuja tu nome, tu nome che mi sono d'amore per me. E questo è un amore sagrato, per tutta la vita, per tutta la vita, per tutta la vita. E stessi un amore per noi, stessi un amore sagrato, sono sciolto, pare tutta la vita, pare tutta la vita, pare tutta la vita. Hanno realizzato queste coreografie veramente con tanto amore e con tanta voglia di tirare fuori veramente quello che hanno dentro, che già esprimono con i sorrisi, ma che così la musica per loro è veramente particolare. Quindi grazie, grazie a questi bambini. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!